La scelta di quest'anno è ricaduta su Chicago e come di consueto la scelta dei nostri spettacoli passa attraverso una ricerca di mercato, ricerca di mercato che ha identificato Chicago come primo titolo con una differenza rispetto agli altri anni che a livello di familiarità, ovvero di conoscenza del pubblico dello spettacolo, della storia dello spettacolo è risultato un po' più basso e così abbiamo deciso di utilizzare una strategia quest'anno completamente nuova rispetto al passato, ovvero di dare maggiore familiarità al titolo utilizzando due star all'interno del cast e quindi abbiamo scelto Chiara Moschese e Stefania Rocca e quindi siamo molto contenti di sperimentare questo nuovo lancio.